Uretec nasce nel 1990, quest'anno festeggia il ventennale e è un'azienda che da sempre si occupa di iniezioni di resine poliuretaniche per il consolidamento dei terreni e per il sollevamento di pavimentazioni avallate. La mission è quella di inventare un nuovo prodotto, una nuova tecnologia laddove questa non esista e di migliorarla qualora questa invece esista. Uretec fa parte di un network internazionale che è presente in oltre 50 paesi nel mondo, poi in quanto a Uretec SRL il gruppo Uretec Italia opera nei paesi dell'arco europeo che vanno dal Portogallo fino in Grecia, compresa la Francia, la Spagna, la Svizzera, l'Austria e attualmente è un gruppo che fattura oltre 40 milioni di euro e ha degli uffici appunto in questi 5 paesi che ho citato. Le quattro tecnologie di Uretec che sono tecnologie brevettate sono l'Uretec Floor Lift che è la prima nata, poi l'Uretec Deep Injections che è un brevetto per il costruimento appunto dei terreni di fondazione, Uretec Walls Restoring e Uretec Cavity Filling. L'uso che si fa di queste ultime due tecnologie è quello del consolidamento di murature ammalorate e del riempimento di macrocavità, parliamo di cavità con volumi molto molto importanti che vengono riempiti con il pompaggio di argilla espansa prodotto dalla Leca che ha inventato con noi, che ha realizzato con noi questo brevetto e alla fine il restante volume che rimane da riempire viene riempito con resina Uretec attraverso la quale si può anche ricreare il tensionamento della calotta della cavità. L'utilizzo di queste tecnologie brevettate porta sicuramente dei grossi vantaggi rispetto alle tecnologie tradizionali specialmente operando in certi ambiti, ovvero ambiti cittadini o in ambienti piuttosto ristretti. Il più grande vantaggio che si può intuire è la bassa invasività, se pensiamo alle tecnologie tradizionali quali le sottofondazioni o i micropali, sono tecnologie che richiedono comunque grossi oneri di impianto cantiere e sono tecnologie che richiedono delle lavorazioni che sono molto invasive. Con la tecnologia Deep Injections è possibile realizzare un intervento di costruimento dei terreni senza praticamente sporcare, senza creare disturbo alla normale attività di un edificio, quindi che sia esso un'abitazione o che sia un'attività economica. Un altro vantaggio è la rapidità di esecuzione, se si pensa che in un solo giorno alle volte è possibile risolvere il problema, se si tratta di pochi metri di fondazione che hanno un problema di cedimento. L'intervento Uretec è un intervento sicuramente definitivo e anche il materiale che viene iniettato è un materiale che comunque viene garantito nel tempo. Uretec non produce direttamente la resina che viene iniettata nel terreno, che è prodotta da un colosso internazionale del settore, che garantisce il materiale per 60 anni. La certificazione che attesta questa durabilità è in nostro possesso e può essere fornita al cliente su richiesta. Tra le referenze più importanti di Uretec ci sono ad esempio il palazzo di punta della Dogana a Venezia, che è il palazzo che divide il canale della Giudecca dal canale grande, la torre civica di città di Castello, che è stata consolidata da Uretec qualche anno fa, il palazzo Unvetus di Alessandria, che è il palazzo più antico di Alessandria, che è stato oggetto di intervento Uretec Deep Injections per una ristrutturazione globale del palazzo. In questo caso il consolidamento che è stato fatto al palazzo era un consolidamento preventivo, realizzato prima dell'incremento dei carichi seguenti alla ristrutturazione. Chiaramente le referenze che ho citato sono le referenze più prestigiose, però l'intervento classico di Uretec è un intervento che può essere un'abitazione monofamiliare oppure un condominio. Diciamo che questi sono gli edifici che fanno la gran parte del fatturato di Uretec. Il materiale che Uretec inietta nel terreno è un materiale assolutamente non inquinante. Questo è stato certificato in seguito a vari test che sono stati fatti. Il certificato di cui disponiamo, il certificato fatto presso l'Università degli Studi di Padova, attesta che un sito non inquinato, a seguito di trattamento Uretec, permane non inquinato. Un altro certificato molto importante che abbiamo in questo ambito è il certificato che ci è stato rilasciato dall'Ighen Istituto di Gelsenkirchen, che è un istituto conosciuto a livello planetario. Uretec oggigiorno è il leader mondiale del consolidamento dei terreni con resini espandenti. In particolare il gruppo Uretec Italia dispone di una struttura con sei ingegneri geotecnici e con una rete di tecnici commerciali che è distribuita su tutto il territorio nazionale. La struttura di Uretec è in grado di rispondere a qualsiasi domanda il cliente dovesse avere e i sopralluoghi che i nostri tecnici realizzano sono interamente gratuiti. Da Alberto Pasquetto un saluto a tutti.